Ugo Riccardo Tutone, Confindustria Palermo, un incontro tra industriali e Banca Fideuram. Un incontro tra imprenditori, conoscitori di quelle che sono le esigenze degli imprenditori e anche professionista. Ho stretto un accordo insieme all'Avvocato Quartararo con Banca Fideuram, intesa San Paolo Invest, per individuare quelle che sono le formule a sostegno delle imprese. Le formule che abbiamo individuato maggiormente sono quelle della fiduciaria, che accompagna il passaggio generazionale all'interno delle imprese e la formula finanziaria del lending, quindi a sostegno di quelle che sono le operazioni finanziarie all'interno delle imprese. Passaggio generazionale cosa significa? Passaggio generazionale che sta colpendo molte realtà padermitane, quale la mia azienda, la Fratelli Tutone, io sono la settima generazione e quindi il passaggio di testimone all'interno delle aziende, quindi di padre in figlio. Che comporta sicuramente delle spese? Certo, comporta delle spese, comporta anche dei deficit di fatturato, la tecnologia va avanti e quindi si deve adeguare. Magari le nuove generazioni sono più recettive, tecnologici rispetto anche ai padri o anche ai nonni addirittura che ancora operano all'interno delle aziende e quindi Banca Fideuram insieme alla consulenza mia, quale professionista, si pone quale obiettivo quello di individuare dei prodotti a sostegno di queste operazioni. Rosanna Salvaggio, Fideuram Bank, oggi un'intesa, nuovi partner di Confindustria. Sì, guardi, io faccio parte appunto di San Paolo Invest, gruppo Fideuram, intesa San Paolo Private Banker. Questo nome così lungo rappresenta una nuova private banker che si è creata dall'1 luglio 2015, la più grossa private banker italiana. Si pensa che accompagnerete Confindustria nei passaggi generazionali? Sicuramente sì, allora nei passaggi generazionali in tutte quelle che possono essere le soluzioni ai problemi oggi degli imprenditori. Quindi sia passaggi generazionali sia attività di lending. Lending intendiamo attività di finanziamenti alle aziende per cercare comunque di risolvere tutte quelle che sono le loro problematiche, per cercare comunque di alleggerire il carico relativo agli interessi passivi che oggi un imprenditore ha. Cioè cercare comunque di seguire l'imprenditore in tutte quelle che sono tutte le sue problematiche. Supporto anche per gli aggiornamenti tecnologici? Sicuramente sì, cioè dare tutti i tipi di supporti attraverso, questo è importante, un nuovo sistema di advisory patrimoniali integrata. Cosa vuol dire? Una sinergia con i commercialisti, con gli avvocati, cioè con i più grandi professionisti del settore, in modo tale da risolvere ognuno per la propria competenza il problema appunto del cliente. Quindi chiaramente il passaggio generazionale lo discuteremo insieme al notaio di fiducia e cercando come Fideuram di dare le soluzioni, il notaio di dare il suo know-how per quanto riguarda... Quindi rete di professionisti al servizio di confine industrie. Assolutamente sì, proprio advisory patrimoniali integrata vuol dire proprio un nuovo sistema di sinergia di professionisti che lavorano insieme per dare una soluzione a 360 gradi all'imprenditore. Grazie a tutti.